Sono momenti davvero ad alta tensione perché sta per iniziare il day 3, da questa giornata usciranno gli otto che domani si giocheranno la finalissima, la vera finale, il tavolo televisivo e poi quello che laureerà il campione di questa tappa. Noi abbiamo un caro amico che tra un po' siederà questi tavoli, che assisterò il mio player a questi tavoli sperando che ci porti al tavolo finale. Siamo molto fiduciosi, comunque sappiamo che adesso sono rimasti davvero in pochi, sono rimasti i più bravi. Pensiamo che chi gioca oggi il suo torneo l'ha già vinto. Sì, però per chi ha ambizioni ancora più grosse il torneo inizia proprio adesso e noi siamo in gran segreto, ma anche non si sta anche in giro perché porta male, dicono ma noi abbiamo ambizioni più grosse. Più grosse e ci affidiamo ai fattidici gufi. Fattidici gufi, ciao caro, a dopo. Grazie. Grazie a tutti.